che spettacolo minchi per vestirsi così ci vuole il porto d'armi e dove si veste? dai inculissimi se la vede mio nonno cardiopatico eredito non è un culo ma è eutanasia andiamo a guardare ah personaggi come ti piace tamarro eh ciao bello la tua e la quattro grazie e questa la ficco e che facciamo andiamo mia personaggia ciao come ti chiami? che cazzo è ingoiato? jx pinchia che pacco che cazzo è natale? ma dove fai? ma cazzo è preso per un incantatore di serpenti? ma guarda questo che schifo grazie a tutti Grazie a tutti.